è pazzesco quello che sto per leggerti è veramente pazzesco la storia è raccontata su un giornale finanziario italiano milano finanza provate ad ascoltare quello che scrivono immaginate di esservi appena svegliati è un giorno speciale vi state regando in banca la vostra banca quella a cui avete affidato i risparmi di una vita intera o quelli frutto del sudore dei vostri genitori avete appena trovato la casa dei vostri sogni oppure vi siete decisi a comprare quel bell'appezzamento di terreno che tra poco potrete coltivare o magari semplicemente volete fare un importante regalo a vostro nipote o al vostro partner insomma c'è un motivo in più per percorrere la solita strada con la solita salita quella scomoda pavimentazione con i san pietrini ci siete varcate la soglia della banca è arrivato il momento finalmente di realizzare il vostro sogno mentre si aprono le porte a sensori rigorosamente in vetro blindato la vostra spalla batte accidentalmente contro un tizio che sta uscendo con aria agitata e nervoso evidentemente scosso sta continuando a inveire contro tutti i cassieri addetti alla sicurezza direttore nel turpiloquio si riescono però a identificare chiaramente alcune frasi non potete farlo tutti i miei risparmi come farò adesso rischio di chiudere la mia impresa come farò a pagare le bollette a mandare a scuola i miei figli un pensiero terribile vi attraversa la testa come un lampo sì avete capito il conto con tutti i risparmi di quel signore non esiste sostanzialmente più o meglio è ostaggio della banca così come il vostro prima è stato convertito in obbligazioni dello stesso istituto nell'ambito delle operazioni di salvataggio da parte del proprio governo la promessa di essere rimborsati nel giro di tre anni si è dissolta in una sera di dicembre quando un decreto improvviso ha allungato nuovamente il rimborso di ben dieci anni convertendo ora quelle obbligazioni della banca in titoli di stato fogli per i quali non è previsto neppure un mercato secondario carta straccia osserva qualcuno questa è tutt'altro che una storia romanzata è quello che è successo alle centinaia di risparmiatori dell'ex banca cis di san marino diventata nel 2019 banca nazionale san marinese bns che ancora oggi e per i prossimi decenni non potranno avere accesso ai propri risparmi coloro che possedevano conti con importi inferiori a 100.000 sono stati rimborsati quasi immediatamente è scattato il belin sotto i 100.000 euro c'è il fondo di garanzia se saltano le piccole banche altrimenti se salta una grande banca non non è dato sapersi cosa può accadere perché questo di fatto non si è mai verificato fino adesso ci sono sempre stati salvataggi di stato dicevo coloro che possedevano conti con importi inferiori a 100.000 euro sono stati rimborsati rimborsati quasi immediatamente mentre per gli altri si è aperto quel calvario di conversioni che prosegue ancora oggi ai correntisti con importi superiori ai 100.000 euro è stata sì garantita la restituzione del capitale ma sotto forma di conversione coatta in obbligazioni emesse da bns coatta vuol dire forzata tre sono le classi formatisi quelli da 100.000 a 300.000 euro sarebbero dovuti essere rimborsati nel luglio 2022 quelli con importi da 300.000 a un milione di euro avrebbero visto il rimborso nel 2024 gli importi dal milione di euro in su nel 2026 ma il 5 dicembre del 2022 sono stati emessi due nuovi decreti delegati che hanno convertito in titoli di stato anche le altre due classi di correntisti dell'ex dell'ex banca cis così le obbligazioni con scadenza al 2024 quelle che interessavano i conti che andavano da 300.000 a un milione di euro saranno ripagate nel 2037 ad un tasso dell'1,5 che non copre minimamente l'inflazione mentre quelle con maturità al 2026 sono state convertite in titoli di stato con scadenza al 2042 a un tasso di 1,75 nel 2042 come sottolineano alcuni esperti i salvataggi non sono mai facili e qualsiasi strada percorribile sembra sempre la migliore rispetto al rischio di ritrovarsi con un pugno di mosche e poi qualcuno ancora si interroga del perché all'interno di questo canale parliamo di strumenti alternativi